del resto io spero si sia notato guardate il risultato di Milano quante storie Pisapia non è del PD guardate il risultato del PD cioè ma noi quando facciamo le primarie alla fine, vabbè primo anno, due anni ma il terzo o il quattro anno ci abituiamo all'idea e chi ci osserva forse che non spesso si è abituata all'idea ma viene ritenuto abbastanza normale per esempio in una situazione come quella di Milano che può essere un successo di Pisapia e uno straordinario successo del PD cosa c'è di strano? Se i primarie si fanno apposto per essere il candidato che ha più possibilità di vincere laddove si fanno e quindi naturalmente è un contesto del tutto diverso non sto facendo paragoni però sono convinto che anche a Napoli e adesso discutendo in queste ore vedendo quali potranno essere le forme noi troveremo diciamo la chiave così come la troveremo stiamo discutendo ovviamente se voglio dire in tutte le altre noi abbiamo anche un certo gruppo diciamo di luoghi nei quali non è stato possibile un numero limitato devo dire ma dove è stato possibile al primo turno comporre il centro-sinistra ma stiamo ragionando io credo che mi sento di poter dire che ovunque noi riusciremo a compattare il centro-sinistra e affrontare il balontaggio Uniti De Marchis di Repubblica anche adesso ha detto che al 2013 secondo lei questa maggioranza non ci arriva qualche giorno fa ha detto che nella eventuale composizione di una candidatura a Premier lei ha detto io ci sono volevo sapere se oggi c'è più di ieri e poi volevo anche sapere che giudizio dà del risultato del terzo polo alla sua prima apparizione all'amministrative terzo polo che è un asse diciamo della sua linea politica sulle alleanze ma sul primo punto no non muovo di una di una paglia come si dice dal mio atteggiamento io ci sono ma non esiste che mi metto davanti al progetto prima di tutto viene il progetto le riforme la coalizione si discute e si decide assieme e chi mi conosce sa che dico sul serio non è che dico così per dire dico sul serio perché mi interessa anche un'altra pedagogia perché sono convinto che usciti da Berlusconi non è detto che siamo usciti dal berlusconismo dall'illusione abbiamo bisogno di un'altra predicazione dove le persone sono importanti molto importanti ma non vengono prima del loro universo di riferimento che sia quello istituzionale di coalizione di partito di progetto e così via e questo per far funzionare la democrazia moderna secondo me e quindi su questo ribadisco e sull'altro ma anche qui io avrete già sentito dire altre volte io penso quando io do sempre grande legittimità legittimazione una posizione di terzo polo ribadisco anche sempre che secondo me in Italia forse più che altrove il meccanismo bipolare è entrato profondamente nel senso comune e quindi il terzo polo si trova sempre in una situazione complicata quando si arriva al dunque detto questo io credo faccio notare che il terzo polo che ha avuto diciamo risultati alterni insomma in alcuni casi significativi in altri meno ha fatto una campagna elettorale prevalentemente in polemica con il centro prevalentemente non univocamente prevalentemente in polemica con il centro destra e quindi io mi rivolgo ancora al terzo polo ai suoi elettori ai suoi dirigenti perché ci sia possibilità nel ballottaggio di trovare delle convergenze detto questo aggiungo anche non scambiate questa posizione mia come posizione in termini politicista questa è la posizione del PD che si rivolge progressisti e moderati poi dice vengono non vengono non è questo il punto principale il punto principale è che io intendo che il PD affermi un'esigenza di ricostruzione che metta assieme forze progressiste e moderate questo è il nostro profilo e lo sarebbe comunque sia che vengono non vengono faccio non faccio è il nostro profilo è la nostra proposta l'idea che abbiamo di questo paese penso che infine che questo che questa posizione diciamo di centro abbia potuto considerare nel caso di Milano e anche in altri posti chi sono gli estremisti cioè l'estremismo è di là di qua non c'è l'estremismo e quindi sono convinto vedremo nelle loro posizioni autonome che noi riusciremo in qualche modo a rivolgerci efficacemente a quella a quella posizione politica io credo che nei balottaggi riusciremo a rivolgersi efficacemente abbiamo anche dei risultati buoni laddove abbiamo fatto l'alleanza il primo turno sia nel caso di Macerata sia nel caso di Chioggia eccetera quindi abbiamo risultati positivi e quindi continueremo a tenere la linea che abbiamo tenuto fin qui Segretario il sindaco di Varese ha dichiarato che se dovesse votare a Gallarate voterebbe per il sindaco del PD e non per quello del PDL al balottaggio cosa ne pensa? Il sindaco di Varese ah di Varese sì ma penso che abbia ragione il luogo Fontana è una persona ma io penso che sia si stia riflettendo insomma in caso della Lega anche a Varese Fontana che è un sindaco riconosciuto vinse con il 70% adesso è il 49,5 sarà per tutti per demeriti amministrativi qualche dubbio io credo che ci sia che Covi in caso della Lega è un problema politico un problema politico io rispondo così noi siamo alternativi soprattutto su temi che riguardano la profondità della cultura politica quando si sfiorano questioni di regressione culturale soprattutto in quello siamo alternativi ma detto questo non siamo mai stati non siamo spocchiosi mai la Lega è una formazione politica popolare rappresentativa quindi noi la prendiamo di lì e quindi sanno che c'è grande a volte grandissimo contrasto grandissimo contrasto ma combattiamo sullo stesso terreno che non mi sembra quello del miliardario così a occhio non mi sembra quello del miliardario questa è la cosa il messaggio quindi non mi stupisco che Fontana dica nel caso voterei quello del PD